Salve buonasera a tutti appuntamento con l'estrazione del 19 di aprile e questa sera volevo segnalare tutto ciò che ho visto che si è presentata l'estrazione. Allora voglio iniziare da questo 61 81 che è un evento cosmico no? È un evento cosmico e si tratta di una posizione che è questa poi abbiamo il 61 con il 62 lo vedete qua? 61 62 che si tratta delle quartine della tavola della tavola perpetua che ho ridotto in pratica poi volevo segnalare anche questo che è uscito il 3 col 4 è uscito su Palermo e poi vi spiego anche un'altra condizione allora il 4 che si piazza qua su Palermo è la congiunzione del giorno 4 il 30 che è l'eclissi del giorno 30 si piazzano tutte e due su Palermo lo vedete? Ok poi avevo questo che era un ambo in quartina 78 87 22 a Cagliari questo poi cos'altro? Adesso non ce l'ho presente magari qualcuno me lo vuole ricordare dunque penso di almeno le cose che mi ricordo in questo momento le ho detto tra le altre cose voglio segnalare le cose importanti di cui vi avevo parlato vi avevo parlato che gli eventi cosmici mensili passano su Palermo quindi passa il 4 che è la congiunzione e passa il 30 che è l'eclissi del giorno 30 dei sole che ne avevo parlato vi ricordate che ne avevo parlato? bene mi sembra di aver detto tutto questa sera se mi volete segnalare qualcosa vi do l'appuntamento a domani mattina grazie a tutti e buonasera